Lo dico agli autori. Al GFV pregna il caos, regolamento infranto e lite fuori dal confessionale Ancora caos nella casa del GFV Psei. Questa volta tra Maria Monsei, entrata la scorsa settimana insieme a Patrizia Pellegrino, e Lulu Selassie Durante la puntata in diretta andata in onda lunedì 29 novembre per La Principessa è arrivata una punizione dal GFV Psei, una nomination, anche se in realtà sarebbe comunque andata al televoto perché votata dai compagni di avventura La produzione ha deciso di punire Lulu perché durante la diretta si è chiusa in bagno in preda a una crisi di panico pronunciando anche parolacce Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulu è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination? C'è una sorpresa per le sorelle, se a Lulu non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulu e delle sue bizze, aveva detto Alfonso Signorini Ma torniamo alla nuova lite tra Lulu e la new entry Maria Monset, che in confessionale ha criticato le principesse e la frase sugli anziani della casa GFVP, regolamento infranto e lite fuori dal confessionale Queste persone non sanno cos'è la fatica nella vita, ha detto Maria Monset in confessionale Lulu si trovava fuori dalla porta aurigliare e quando ha sentito le parole contro e se la si è, come ricostruisce Bixi, è andata a sfogarsi con la sorella Jessica Quella è un'idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il ca. di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla E lei ha detto queste persone non sanno cos'è la fatica nella vita, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF? Poi ha detto mi sono sentita insultata perché hanno insultato noi persone grandi, io mi sono sentita attempata Ha usato parole che dal vivo non mi ha mai detto, forse perché non ha il coraggio, mentre là dentro si è sfogata Maria Monset ha criticato Lulu tirando fuori l'argomento attacco di panico, ora vogliamo dire che ha detto idiota perché ha una crisi di panico Ogni parolaccia è una crisi di panico A me non sembra che abbia una crisi di panico. Che vergogna e mancanza di rispetto. Cosa significa idiota? Spiegamelo Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Dopo la lite Maria Monset è andata a sfogarsi con Davide Silvestri che le ha consigliato di andare a parlare con il GFV Psei e di chiedere una punizione per Lulu che ha origliato il suo confessionale Cosa ovviamente contro il regolamento. La concorrente è quindi andata in confessionale per chiedere un provvedimento Cosa asistenza il credimento Cosa è un provvedimento la ecc 스프a di Monset